I can't do this all on my own, no I know, I'm not superman I'm not superman Ai tempi per Sargent Simulator mi mettevo il camice perché ero uno youtuber non pigro Sargent Simulator Anniversary Edition perché hanno fatto un miliardo di edizioni nei secoli dei secoli C'è ancora la mia, ci sono ancora i miei achievement Posso aprire questo pacco fantastico? Si può aprire, non si può aprire questo pacco Per chi non conoscesse Sargent Simulator raga è appunto un gioco dove si possono fare dei trapianti Non avreste mai detto E si fanno con l'utilizzo del braccio che tu puoi muovere Ma ve lo assicuro su chi di più caro avete nella vita E sperate che non si operi mai da me Manipolare questo braccio che vedete è veramente un'impresa titanica però vabbè Il dottore oggi eseguirà un trapianto di cuore Che è uno dei più semplici perché dobbiamo trapiantare un solo organo Quindi oggi vi spiego anche medicina Il cuore ragazzi serve per pompare il sa... È racchiuso dentro questa gabbia inutile al pene Che Dio ci ha fatto semplicemente per rendere le operazioni chirurgiche più incasinate del solito Perché se non ci fosse stata io a quest'ora avrei già operato Invece devo scassarla tutta Però prima facciamo un tutorial su come tenere un martello per cortesia Cioè veramente studiare medicina impiega meno tempo che finire un trapianto su sto gioco Non sto scherzando Allora la gabbia toracica è andata Non ci serve più il martello Andiamo con l'estrazione dei polmoni Tutto questo gioco in realtà è un placement all'orologio che ho al polso Comprate gli orologi led da amazon E' perfetto Che sono anche utili per essere messi all'interno Ok possiamo attra... Questo in teoria dovrebbe essere un po... un pokemon Sto avendo una difficoltà non indifferente nell'estrarre i polmoni Bene Che poi non gli rimetterò dentro Venterò solo il cuore nuovo però vabbè Dopo i polmoni andiamo ad estrarre quest'organo che non... cosa... Mi scusi mi spiega cos'è questo È suo dovrebbe saperlo Come glielo lascio qui si sa mai che abbia carenza d'affetto Andiamo a recidere lo stomaco che per farlo si fa così Non esattamente... ok perfetto Andiamo anche a tagliare il cuore direttamente Se batte ancora vuol dire che funziona Perfetto Ce l'ho fatta Sono riuscito a togliere il cuore raga Perfetto Che poi uno si chiede ma il cuore vecchio di un paziente dove va a finire? Nei ristoranti vegani Perché i vegani mangiano i cuori di chi non è vegano Per ripicca Ecco forse questo è un po' più pokemon di quello di prima Però io vorrei vedere dove è il cuore nuovo Eccolo qui Nuovo di pacca Amazon Prime Questo qua va posizionato In un modo molto preciso Che Bene ragazzi 4 minuti e 46 E' da tutto dire Perché io ci avevo messo una vita e mezza per fare questa operazione ai tempi Quindi la mia bravura Nei confronti della chirurgia moderna è rimasta Sono stato capace di farlo subito In tutto questo l'orologio dentro al paziente è rimasto E vabbè omaggio E ripasserà la prossima operazione Che è quella di Irene Ecco Irene è un po' più un casino Perché sono due Mi scusi lei Lei è il paziente di prima La può smettere di ammalarsi ogni 3 secondi Può condurre una vita sana Per cortesia Che cosa fa di così strano nella sua vita Da farsi venire così tanti malori Guardo i video di Favij Procediamo Per il trapianto di reni Signori Vanno utilizzati Degli attrezzi Delicati Perché il trapianto di reni È molto Molto delicato Allora la partenza Dovrebbe essere Tra le più semplici Non mi ricordo assolutamente Quali erano i punti da tagliare Ma va bene Paziente che mi sca Ok Ho tagliato tutto Ma va bene Siringa La siringa Questa roba verdastra Non lo so sinceramente che cos'è Però ferma l'emorragia Quindi È utile Se mi pungo con questa roba È un casino Perfetto Perfetto Mamma mia che brutta roba Ma veramente noi abbiamo questa roba nel corpo Mamma mia che brutta roba Oh la madre Raga È alien Santo Impiccati col tuo stesso Intestino Bene Ah c'è anche il laser Mi chiamare L'avrò dimenticato Forse Non è il massimo In questo momento Però vabbè Non so neanche io bene Cosa recidere in questo momento Veloce Sta morendo Sta morendo il paziente La siringa Mi dia una mano Ma non così Stop Sono drogato Porca vacca Stop 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 Si è fermato Ok forse Il laser Non è stata l'idea migliore Però vabbè Sono rimasti ancora 400 millilitri di sangue Siamo nella cacca più totale Mi sono pure drogato Qualcosa mi dice che la falliamo questa operazione Potremmo avere per cortesia un taglierino Ok grazie Molto gentile Ste cose Non le usiamo solo per gli emo E faccia Ce la fai a prendere Ok Perfetto Adesso dovrei riuscire a tagliare anche i reni Se Dio vuole E due Perfetto La siringa frate che stai prendendo sangue Raga ho perso la siringa Sta morendo il paziente Veloce Veloce a sostituire i reni Veloce Hai cento Hai tipo 20 secondi neanche Perché non riesco a prendere le cose Quanti problemi Madonna Se stasera ti fai le pippe Riesci a prenderti il pene Ti giuro te lo taglio No raga non è possibile Cioè dove è la siringa Dove è finita la siringa Mi è morto Porca vacca Uno si impegna a studia medicina 10 anni E poi i risultati sono questi Porca vacca Vaffan cuore Ma poi per rimettere a posto le ossa Cosa usiamo L'attac Mi sa che li sto facendo un sacco male Dammi la siringa di nuovo Grazie Ti tagli così Recidiamo Ok Allora uno via To Amplifon Oh Gesù Perfetto Reli nuovi per favore Dove sono? Qua? Allora uno Dove lo metto? Come? Aspetta Ma dove lo metto? Destra o sinistra? Perché non c'è scritto? Non è come per le cuffiette Che c'è scritto Destra o sinistra Non te lo vedo Allora Destra Oh Va bene Andiamo di cervello Poi c'è quello di occhi E quello di denti Vabbè andiamo di cervello raga Lui è insomma È il mio mestiere Devo farlo Il trapianto di cervello È tipo come cucinare L'uovo alla coc Aprite Così Delicatezza frate Delicatezza Delicate Ok Fatto? Comunque ragazzi Nel trapianto di cervello Il paziente in questione È Pietro Perché Che altro puoi fare Un trapianto di cervello Diamo un motivo a Pietro Di esistere Perché con quello che ha Adesso che si ritrova Non è che Povrino È brutto Guarda è brutto Essere stupidi Tranquillo amico mio Ci penso io A renderti intelligente Devo fermarti la moralgia Quindi Prendi sta siringa E non ti lamentare Grazie Ok Aiuto Come fa? Ho avuto un jumpscare Togliere il cervello È un casino Ma noi ci proviamo 3, 2, 1 Olè Perfetto Pietro Ti ho liberato Del tuo più grande peso Vediamo che cosa Possiamo inserire All'interno Per rendere Pietro Più intelligente Di prima Ok In teoria adesso Dovesse essere Molto meglio di prima Ma perché hai lasciato Il cervello Nell'acqua gassata Me lo vuoi spiegare Tac No Vabbè Veloce Lascia il volo Il volo Che culo Si è incastrato Se prendevo questo Era un casino Tieni A posto Ho preso anche C Non è andata neanche Troppo male Va bene Ragazzi Se abbiamo fatto cuore Reni Cervello E direi che siamo a posto Manca solo Allora quello di denti Non lo faccio Perché non mi piace Però quello di occhi Come ultimo trappianto di oggi Direi che quello con gli occhi Può bastare Quello di occhi È un po' un casino Perché La prima cosa da fare ragazzi È rompere la mascherina Che gli ho messo Mi guardi Mi guardi Mi guardi A posto La seconda cosa da fare Per il trappianto di occhi Ragazzi Questo è un po' difficile Quindi Attenzione Non guardate Se siete deboli di cuore Con quanta delicatezza Sto facendo questa cosa Ed è Ok Perfetto Un altro Ce n'è un altro Grazie Meno male Che oggi non badiamo a spese Sei nato con gli occhi marroni Ma hai sempre desiderato Avere gli occhi azzurri Vieni da Favij Mamma mia Che brutta cosa ho fatto Ok Perfetto Bene Allora Un occhio è quasi Quasi andato L'altro sta Sta L'altro è un casino Allora Adesso tagliarli In teoria dovrebbe essere Uno scherzo Perché basta tagliare Ok Perfetto Ancora l'altro Ok Secondo me sta Non drogarti adesso Non adesso Per cortesia Madonna Madonna Ah Ecco A posto Emorragia fermata Dov'è l'altra siringa Dov'è l'altra siringa Sono drogato Non posso mettere gli occhi Da drogato Va bene Proviamoci raga Occhi da Mentre sono drogato Vai così È un set di occhi azzurri Questo eh zio Devi ringraziarmi e basta Siamo a cav... Come si inserisce un occhio Nella cavità orbitale No Beh Meno male che ho più tentativi Eh frate È difficilissimo C'è te lo giuro Non riesco neanche Ma come dovrei Perfetto Il primo è andato L'altro è uno È uno smile Ma spero ti vada bene lo stesso Sai come rimorchi Che è un piacere così L'altro era di Amazon Prime Questo l'ho preso su Aliexpress Direttamente dalla Cina Perfetto Mi mette ansia a fare queste cose Sono... Basta Ragazzi miei Spero vi sia piaciuto Ho fatto quattro trapianti In un video solo Ai tempi ne facevo Facciamo un trapianto Un video intero Quindi Comunque ragazzi Fare un salto indietro È stato bello Anche perché mi ricordo Ai vecchi tempi Che mi divertivano un sacco Spero vi siate divertiti Comunque io Ho fatto del mio meglio Semmai aveste bisogno Di cambiare il colore degli occhi 5 euro Spero vi sia piaciuto ragazzi Con il seguito di un video C'è un commento E un mi piace Anche a vari social Cominato in descrizione Salutevi Se siete iscriviti E non ci vediamo Alla prossima video Beh ragazzi Mi fa una cortesia Per favore Se mi controlla l'ora Quando sono le otto e mezzo Me lo dica Che devo sfornare il pollo Grazie 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 a tutti.